Cerimonia di premiazione della dodicesima edizione del concorso regionale in vente al tuo spot per una corretta alimentazione. A salire sul palco le classi terza A e terza D risultate vincitrici della scorsa edizione del concorso per l'anno scolastico 2019-2020. Premiata anche la classe seconda A per la partecipazione all'edizione attuale del concorso e vincitrice del premio speciale Anna Di Gennaro. L'iniziativa si pone l'obiettivo di formare i ragazzi alla corretta alimentazione e alla conoscenza del proprio territorio e della propria agricoltura. Presenti alla cerimonia di presentazione l'assessore Brunella Mercadante della direzione generale politica agricole alimentari e forestali e il dottor Salvatore Peridolo in rappresentanza dell'ente comune di Torre del Greco. È stata una mattinata intensa la presenza dei rappresentanti della regione Campania, la presenza del dottor Perillo per quanto riguarda l'amministrazione comunale, ma tanta soddisfazione per me come responsabile della comunità dell'istituto Falcone Scauda, perché i ragazzi attraverso le loro produzioni originali, fantasiose, ma con approfondimenti specifici per quanto riguarda l'alimentazione, hanno reso davvero visibile quello che è il percorso che il collegio dei docenti, gli organi collegiali, la comunità della scuola ha voluto passare in questi anni. Gli spot presentati, elaborati dai nostri giovani, ci indicano che stiamo percorrendo una buona strada. Stiamo realizzando il nostro progetto di istituto e se questo avviene, avviene perché vi è una squadra, perché vi è una comunità, alla comunità fanno parte anche i genitori, che proprio in questo periodo di chiusura delle scuole e di didattica a distanza, hanno fornito ai giovani davvero tantissimi input per elaborare quanto andavamo facendo. Quindi, grazie a quanti hanno reso possibile questa iniziativa. Una bellissima manifestazione, oltre che una bellissima mattinata, quella qui insieme ai ragazzi e ai docenti e alla preside dell'Istituto Falcone Scauda. E il messaggio molto bello che ho portato a nome del sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e a nome dell'assessore alla pubblica istruzione e alla cultura Enrico Pensati è proprio questo, dove il mondo si è fermato e cioè la scuola da lì oggi è ripartita, la rinascita, questo bisogno e questa sete di ritornare alla normalità. Una manifestazione bellissima, una delle tante che oltretutto sul territorio già nei giorni scorsi e nei giorni prossimi si sono organizzate e si organizzeranno proprio dalla comunità scolastica. Imparare a mangiare e promuovere i sapori e i gusti della dieta mediterranea significa promuovere la cultura dei nostri luoghi, della nostra regione, della nostra storia e il patrimonio del nostro DNA. Grazie.